Nel 2016 metteremo mano ai regolamenti, rispoglieremo di tutto ciò che li rende pesanti, complicati e poco chiari e li riconsegneremo alla comunità più funzionale ed attinente a quelle che è la realtà. Ci sono dei regolamenti comunali inutili, altri che invece sono da rivedere perché non più in sintonia con i tempi che stiamo vivendo e che appartengono ad una visione del territorio e di fare impresa pre-crisi. Tra i regolamenti che finiranno per primi sotto la lente di ingrandimento ci sono i regolamenti sul commercio, per esempio per rendere più omogeneo l'arredo urbano, l'utilizzo di tendo strutture rimovibili in autunno e inverno e sul suolo pubblico, in particolare per l'estate. Ma il 2016 sarà anche l'anno del regolamento sul baratto amministrativo, introdotto da Regolamento Renzi, raccogliendo una sfida di dignità e di senso civico. Il baratto amministrativo dà l'opportunità ai cittadini di svolgere socialmente utili per ripagare il comune di appartenenza e dei debiti maturati. Nel giro di due mesi circa verrà portato in commissione per cercare di renderlo consono al comune di libera santa.